buongiorno a tutti ben ritrovati benvenuti nella mia casa anzi nella mia stireria diciamo così e io cerco sempre di stirarmi i panni la mattina presto quando posso e questi erano quelli che avevo appunto ritirato ieri tanti li ho piegati per fortuna e questi pochi meno male mi sono rimasti da stirare e quindi faccio presto insomma quando sono pochi faccio presto io cerco sempre di di stenderli bene in modo tale da stirare il meno possibile e dato che oggi appunto è mercoledì per me e quindi devo uscire con mia sorella e cerco di mandare avanti quello che posso il più velocemente possibile a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché tanto noi qui ci pranziamo soltanto, la sera stiamo di là, quindi si è mantenuto pulito, per fortuna. E quindi vado solo ad aspirare. Questo è acqua e alcol. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque devo dire che il portico si è mantenuto abbastanza pulito, infatti briciole non ho trovato granché. Meglio così. Adesso lascio aperto, qui così passa un po' d'aria fresca e poi più tardi qui chiudo, se no quando accendo il condizionatore poi fa troppo caldo. Entro tutta l'aria calda, guardate già come sono sudata, cioè non sono neanche le otto e già io sono così. Adesso vado a portare la colazione mia sorella, gli faccio il tè così lei fa colazione con calma perché io volevo accompagnare Valentina. Quindi alle nove usciamo, così accompagno Valentina. Quindi che faccio? Accompagno Valentina al lavoro, torno indietro e adesso mia sorella fa colazione che sono quasi le otto. Quindi faccio la colazione, io poi faccio la doccia mia sorella e poi accompagno Valentina. Quindi io per le nove devo aver finito di fare la doccia tutto quanto e accompagno Valentina. Poi torno a casa, mia sorella la vesto già pronta, quindi lei sarà già pronta. Usciamo, quindi noi usciremo verso il tempo che torno, facciamo 9.30, 9.40, così voi vi domanderete ma perché non esci direttamente con tua sorella alle nove quando accompagno Valentina? Perché poi lei deve andare al bagno, quindi io faccio in modo che passa sempre quella mezz'ora. Quindi lei beve tanto, ovviamente poi deve andare al bagno perché bevendo tanto... Quindi che faccio? Accompagno Valentina, torno indietro che saranno le nove e mezza, prendo mia sorella e usciamo. 9.30, 9.40, tempo che lei andrà dal bagno e usciamo. Quindi penso che siamo adesso d'estate un'oretta e mezza perché già verso le 10 inizia a fare caldo anche fuori. E poi io ecco qui ho tante cose da fare, quindi facciamo un'oretta e mezza, massimo due. E io cerco oggi di rientrare qui per le 11.30, anche perché insomma 11.30 a mezzogiorno perché poi fa caldo. E a me mi rimane tutto da fare perché adesso cerco di fare qualcosa, ma il tempo che faccio la doccia passa il tempo, poi devo uscire, quindi ecco. E si fa quello che si può, quello che si può. Va bene, io proseguo, vado a preparare la colazione, dopo. E qui nello studio vado a dare giusto una spolverata e vado a fare i vetri che erano un po' sporchi. Però qui veramente ci vado solo o io a stirare oppure Maurizio quando deve fare qualcosa qui al computer. Altrimenti adesso qui ragazzi si può dire che neanche entrano per niente. E allora vado a dare giusto una spolverata al volo e aspiro il poimento. Se necessario lo lavo, altrimenti no. Grazie. E' rimasta la voce accesa, così spegne. Ah, non so se così, no. Ok. Vabbè, ti fermo così perché devo accompagnare la ricina ora. Sono quasi le nove. E poi, più seco dopo, al ritorno. Volevo farvi vedere questo. Guardate che carino. Vediamo se metto a fuoco. I magnifici sette. Infatti sono quei regali che uno non sa a volte che fare. E' proprio carino. Eccoci qua. Infatti a Maurizio è piaciuto tantissimo. Proprio tanto. A volte, ecco, uno fa un piccolo regalo, però veramente personalizzato e molto carino. E lui se lo tiene qui. Nello studio. E ora vado a stendere i panni perché avevo messo sia questa lavatrice. L'avevo programmata prima di uscire. Infatti, vedete, ha finito. E quindi adesso stendo questi e poi ho l'altra lavatrice fuori che sicuramente ha finito anche quella. Quindi ora prendo i panni e ce li andiamo a stendere. E quindi ora prendo i panni e ce li andiamo a stendere. E poi prendo i panni e ce li andiamo a stendere. Tัvano con una buona IoT. E poi prendo i panni e ce li andiamo a stendere. Grazie a tutti. I panni di questi fuori, delle lavatrici fuori. Prima di stendere gli altri, ritiro questi qui, questi asciutti. Questi sono un po' uvili, boh, che strano. Vabbè, ritiro questi perché se no non sono veramente l'altro. Anche questi sono belli asciutti. E poi oggi pomeriggio me li piego perché adesso non ho il tempo. Oggi con calma. Me li piego. Che poi nessuno vuole piegare i panni. Non so perché nessuno dei ragazzi vuole piegare i panni. Questi almeno. Lo so io perché non trovo nei compagni dei calzini. Su tutti i pezzetti piccoli e ci vuole tempo a piegarli. Ma questi li sposto qua. Vabbè, questi li sposto. Se no non so dove mettere gli altri. Questo ha finito. Le tovaglie. Così stendo pure questi, va. Così stendo pure questo. E ora... E ora... Vado a piegare questa roba, meno male che tanta robetta non è da stirare, per fortuna, meno male, comunque qui ho acceso un po' il condizionatore perché veramente mamma mia, un caldo, almeno così un po' si respira. Oggi non ho fatto tanto perché come vi dico sempre è mercoledì, è lunedì, mercoledì e venerdì non faccio tanto. Anche perché poi quando uno entra a mezzogiorno passato ti passa pure la fantasia, col caldo che fa passa proprio la fantasia che fa tutto. Poi se rientro tardi, peggio che mai, come dice mio figlio, come dice Claudio, bisogna fare solo il necessario. Ho capito, a momenti neanche quello riesco a fare, neanche il necessario. Dici tu fai solo il necessario perché giustamente noi non è che ti possiamo dare sempre una mano, giusto. Allora, ecco sì, le cose sono tante, non si riesce a fare tutto, a gestire una casa grande non ci si fa, ma forse solo la casa e tutto il resto. Io vedo veramente tutti i giorni non ho tempo di fare niente, voglio andarmi a fare un giro, una passeggiata, voglio andare a vedere, faccio un esempio, una mostra, qualche cosa. No, perché bisogna rinunciarci anche perché qui ci sono da fare tante cose, ci sono tante cose da fare. E allora, vabbè, non mi voglio lamentare, non mi voglio lamentare perché mi ha insegnato che non bisogna lamentarsi perché veramente c'è gente che si dovrebbe lamentare, non io. Io veramente sono fortunata e che mi piacerebbe avere un po' più di tempo, il guaio è che appunto non si riesce ad avere. Poi, in questi giorni c'è pure mia sorella che un po' il caldo, un po' che gli fa male la gamba, perché appunto ha la protesi e quindi gli dà fastidio la protesi che ha. Lei sta facendo la cura, però gli dà fastidio, c'è poco da fare, col caldo si vede che si accentua di più, non lo so. Va bene, va, continuo a piegare. Tanto questa è roba da lavoro oppure roba per casa, quindi gli do una stirata così con le mani. Adesso appunto ho messo l'altra lavatrice, così le mie tre lavatrici di oggi le ho fatte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho finito di piegare anche le tovaglie, tutti i panni si sono asciugati, adesso ho la terza lavatrice che sta quasi finendo. E nel frattempo, che aspetto la lavatrice che finisce per stendere anche quelli, vado a fare la granola. La famosa granola che si è bruciata, ma questa volta grazie ai vostri consigli tra timer, sveglie, telefoni, chi più ne ha più ne metta. Questa volta mi metto tutti i timer del mondo, tutte le sveglie, tutto quanto. Va bene, ci farò attenzione. Quindi andiamo a fare questa buona granola, perché proprio mi manca tanto da mettere nello yogurt. Quindi vabbè, questi giorni sto mettendo una banana, oppure metto la pesca, insomma ecco, metto la frutta dentro lo yogurt. Però a me piace parecchio la granola da mettere. E quindi, dato che oggi sono bella sudata e prima ho fatto i panini, quindi adesso questa cucina è incandescente, la faremo diventare ancora più incandescente. Va bene, dai, facciamo sta granola. Per la granola abbiamo bisogno di frutta secca, ovviamente, e quindi io prendo di solito questo fitness mix che prendo all'Eurospin. Ogni pacchetto è da 150 grammi e qui è tutto mischiato, quindi questo è molto molto buono. Quindi io userò due di questi, noci, nocciole, poi io ho dei semi di zucca e poi dell'uvetta. Allora, considerate che tutti questi stiamo su 300, 400, 500, 500, io faccio sui 550 grammi di granola, anche perché noi siamo tanti, quindi ce ne vuole un bel po'. E poi io ci vado a mettere due cucchiai di miele di acacia, oppure millefiori, oppure quello che vi piace. Questo qua, due cucchiai, io li metto in una ciotola nel microonde, in modo che si squagli un pochino e voi potete farlo anche a bagnomaria. E poi la frutta secca, quella che vi piace, perché a me piace tutta vista. Io ho squagliato il miele nel microonde, allora, cominciamo. Un po' di semi e un po' di uvetta. Poi metto un pochino di avena, però questa è facoltativa l'avena, io di solito un pochettino ce la metto. Ecco, così. Però volendo si può anche non mettere. Ok. E ora il miele. E via col miele. E ora andiamo a mescolare il tutto. Mamma quanto è buona! Facilissimo! Poi ho messo già la carta da forno sulla teglia e vado a buttare il composto. Così. Lo raccolgo bene. Eccoci. Olè! Perfetto. E ora lo vado a schiacciare. Ecco. Lo schiaccio e lo allargo, così. Facilissimo. Ecco qua. Una volta schiacciata bene, la vado a mettere in forno a 180 gradi per 10-15 minuti. ed eccola pronta. Questa volta la granola è salva, non l'ho bruciata. Ora la faccio raffreddare e ora che si è raffreddata la vado, diciamo un po' così a rompere. Ed ecco qui la mia bella granola, così per un pezzo ce l'abbiamo. Ho messa qui in questo contenitore. E ora, con questa granola che è avanzata, vi vado a fare un bello yogurt. Eccoci qua. Eccoci qua. Ci vuole, ci vuole. Non messa un po' troppa di granola, eh. Però, sono ghiotta di granola. Quindi adesso una bella merendina, che non sarebbe ora, perché è un po' tardino. Però, con sto caldo, io un bello yogurt me lo mangio. Posso lasciarci il salito? Ed eccomi qui da mia sorella a dare una bella pulita. Ovviamente anche qui tutti i giorni va pulito, sia il bagno che questa stanza. E quindi anche le lenzuola, io le devo sempre cambiare, perché lei suda parecchio, come me. Suda tanto, anche stando ferma suda. E quindi, di solito, quando io lavo o la metto seduta fuori. E' solo che oggi faceva troppo caldo e c'era il condizionatore acceso. L'ho dovuto spegnere, perché quando apro le finestre è inutile lasciarlo acceso. E lei si è messa a letto, perché appunto fuori faceva troppo caldo. Di solito io pulisco sempre qui il pomeriggio. A volte può essere subito dopo pranzo, oppure anche dopo, come oggi. Per esempio, qui erano già quasi le ore 19. E quindi spesso mi capita di farlo a quest'ora. E qui vado a stendere la terza lavatrice. E subito dopo preparo la cena. Quindi anche questa giornata per me è finita. Io vi ringrazio per essere stati con me. Per avervi fatto tanta tanta compagnia. Sono molto contenta che ci siete sempre. Vi ringrazio tantissimo. E come dico sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti e buon proseguimento di settimana. Ciao a tutti e buon proseguimento di settimana.